E venne la notte, e fu una notte tale che si conobbe che occhi umani non avrebbero dovuto assistervi e sopravvivere. Tutti sentirono questo. Nessuno dei guardiani, né italiani né tedeschi, ebbe animo di venire a vedere che cosa fanno gli uomini quando sanno di dover morire. Ognuno si congedò dalla vita, nel modo che più gli si addiceva. Alcuni pregarono, altri bevvero oltremisura. Altri si nebriarono di nefanda, ultima questione. Ma le madri... Le madri venivano a preparare, con dolce cura, il cibo che è il viaggio. E lavarono i bambini, e fecero i battati. E all'armo i piedi spinati, erano pieni di biancheria infantile, stesa al vento ad asciugare. E non dimenticano le voce, e i giocatori, e i buscini, e le cento piccole cose, che esso pensano, e di cui i bambini hanno in ogni caso bisogno. Non fareste anche voi altrettanto? Se non fessero uccidervi domani col vostro bambino, Voi non li vereste oggi da mangiare.